Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Quello che oggi vi mostrerò è una tecnica di montaggio e lavoreremo su Premiere. Ma attenzione, quando parliamo di tecniche di montaggio, quindi che voi usate Final Cut, usate Avid, usate altri Movie Maker, va benissimo lo stesso, va a prescindere da qualsiasi software che vi utilizzate. Oggi parliamo del J&L Cut, ossia il taglio a J e il taglio ad L. Nomi buffi? Assolutamente sì, ma tra poco capiremo il perché. Andiamo a schermo e vediamo perché i nomi così buffi. Come tutti quanti sappiamo, montare un video significa tagliare ed incollare più pezzi, più clip, uno accanto all'altra. Questa naturalmente è una descrizione e definizione molto blanda di quello che è il montaggio. Ma diamo per assodato che sia così semplice, quindi concentriamoci sul concetto che tagliamo ed incolliamo clip. Mettiamo il caso che stiamo facendo una narrazione di come si fa la pizza a Napoli e sulla timeline abbiamo due inquadrature. La prima è quella del panorama di Napoli e la seconda invece abbiamo quella invece della pizza che viene girata nel forno. Ok, ora quello che stiamo vedendo è semplicemente, sono semplicemente due clip uno accanto all'altra dove all'un certo punto c'è un taglio. Ora, queste due clip così naturalmente non dicono nulla, ma di sicuro all'interno di un contesto e forse con una voce narrante potrebbero raccontare qualcosa. Ma oltre a tutti quelli che sono i contorni che noi possiamo applicare al nostro montaggio, quindi parliamo della correzione colore, della musica, del voice over. Nella base del montaggio e della narrazione e anche per realizzare e trasportare lo spettatore dove vogliamo e per creare il nostro filo narrativo, ci sono delle tecniche di montaggio che vanno a prescindere dal semplice taglio tra le due clip. Ora, nell'esempio più classico che ci si può prestare davanti è quello praticamente di mettere una clip composta da video ed audio accanto ad un'altra clip che è video ed audio. Ma provate a ragionare, se io invece di vederla in questo modo, quindi sento i rumori della strada, cambio l'immagine e già sto vedendo la pizza che mi ha sfornato. Se invece di vederla in questo modo io la vedessi in un modo diverso? Allora, proviamo a fare un semplice giochetto. Clicchiamo con il tasto destro, selezioniamo entrambe le nostre clip, tasto destro, scollega. In questo modo l'audio ed il video di entrambe le clip sono scollegate, quindi possiamo fare quello che vogliamo per entrambe le clip. Proviamo per un momento a trimmare all'indietro l'immagine della nostra pizza fino a che non sentiamo il rumore della pala che batte sul marmo. E allunghiamo un pochino la clip precedente che è quella del nostro panorama. Sentiamo adesso che cosa è successo. Come avrete potuto notare, quello che è successo è che viene percepita prima quello che potrebbe essere l'immagine successiva. Ma questa cosa può essere ancora di più esasperata se noi facciamo in questo modo qua. Così facendo io da montatore do la percezione allo spettatore di quello che sta per arrivare e del fatto che sto andando ad unire due concetti. Questo è un modo di tagliare le immagini, quindi di far arrivare prima l'audio di quello che sta per accadere. Quindi in questo caso passiamo da un campo largo ad un dettaglio. Quindi cosa facciamo? Andiamo a stringere sonoramente il concetto e poi lo mostriamo. Naturalmente questo è un taglio grezzo ma io posso tranquillamente applicare una dissolvenza in modo molto semplice nel taglio così da renderlo molto più uniforme. E sarà una cosa di questo tipo. Naturalmente all'orecchio suona in un modo completamente diverso e all'interno di una narrazione questo tipo di percezione di montaggio è completamente differente. Questa stessa tecnica che io sto utilizzando in questo momento può essere utilizzata ad esempio all'interno di un dialogo. Mentre qui una persona sta rispondendo noi possiamo sentire la risposta di un'eventuale conversazione già in questo punto qua senza mostrare la persona che abbiamo dall'altro lato. E questo è detto jcat. Come vedete la forma di dettaglio è la forma di una j. Quindi partiamo da questo punto qua, andiamo in qua e abbiamo realizzato una j. Ora, oltre al jcat esiste anche l'lcat, ossia il taglio ad l. Il taglio ad l come funziona? Beh, in modo molto simile ma completamente opposto. Cosa significa che invece di mostrare prima il suono che è l'immagine mostrerò prima l'immagine e poi il suono. Questo naturalmente nel concetto di montaggio è preferibile ad esempio fare dettaglio campo largo. Se facciamo il dettaglio campo largo otterremo una cosa del genere. E questo è l'lcat, ossia i tagli vanno a creare una L. Come potete notare rispetto ad un semplice taglio in timeline costruire la nostra storia e la nostra narrazione in questo modo può rendere la storia e quello che vogliamo raccontare in un modo completamente diverso da quello che ci aspettiamo. E quindi abbiamo nuovi strumenti creativi per poter raccontare le nostre storie e far immergere lo spettatore in quello che noi stiamo raccontando. Insomma, le tecniche di montaggio sono fondamentali per imparare a costruire una narrazione. Oltre all'idea creativa che ci deve essere dietro a un video quando andiamo a realizzare il montaggio dobbiamo costruire la storia e fare in modo che lo spettatore, oltre a rimanere attaccato al nostro contenuto a quello che noi stiamo realizzando, deve rimanere collegato ed immerso all'interno della storia. E per farlo c'è bisogno di studiare tantissimo la costruzione della scena. Quando si costruisce una scena, al montaggio parliamo, è importantissimo andare a studiare esattamente i momenti in cui noi vogliamo che lo spettatore senta delle cose o ne veda delle altre. E questo è quello che fa il montatore, costruire studiando. Tecniche di montaggio ne sono tantissime. Oggi vi ho spiegato due tagli differenti da quello molto classico a cui siamo abituati, ossia il taglio tra due clip. E già con questi piccoli accorgimenti all'interno dei vostri video potete migliorare tantissimo la narrazione. Di sicuro c'è tanto altro di cui parlare. Ma per il momento è tutto. Se questo video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, potete lasciare un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e attivare la campanellina così sarete sempre informati quando uscirà un nuovo video. Se avete delle domande o delle perplessità potete scrivermi nei commenti. Cosa altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.